È stato pubblicato all'albo pretorio informatico del comune di Riva del Garda il bando di gara per l'affidamento in affitto del piano terra del velino Campi, l'edificio storico Liberty in Riva al Lago, già dependence del prestigioso sanatorium von Artungen, di più recente centro di valorizzazione scientifica del Garda, gestito dall'azienda provinciale per la protezione dell'ambiente, ora destinato, secondo il comune, ad ospitare un'attività commerciale di somministrazione a servizio della spiaggia. Il bando con i relativi allegati si trova seguendo il sito internet del comune con scadenza il 23 maggio.